Musica Ciao a tutti ragazzi, buc'è questo nuovo video di Kevin Uzumaki50 E oggi andremo a fare altre evocazioni in Dragon Z Dokkan Battle Cominciamo Allora è uscito il nuovo Golden Freezer Quindi andremo a fare le evocazioni su di lui praticamente Speriamo di trovare Golden Freezer così almeno... Cioè mi hanno detto che è molto buono e mi piacerebbe davvero trovarlo Poi comunque ragazzi c'ho un po' di Dragonstone più dell'altra volta Tipo adesso ne avrò tipo 80 mi sembra circa Comunque poi ragazzi chi vorrebbe essere salutato Che come ho detto questa cosa va a periodi Quindi chi vorrebbe essere salutato mi lo scriva pure sotto nei commenti E io nel prossimo video lo saluterò molto volentieri Comunque dai su andiamo nelle summon E faremo le evocazioni ecco qua su questo Golden Freezer Allora speriamo di trovare lui praticamente Abbiamo 81 Dragonstone ecco come ho detto io Dai su cominciamo subito e speriamo di trovarlo Forza Ok 4 astronavi Speriamo in bene Release giallo Super Saiyan Deve diventare 2 E se è possibile 3 Rimane 2 ovviamente Dai speriamo Il primo è Nessuno Un raro proprio che fa schifo Ok SR ma inutile Majin Buu Questo è sempre Majin Buu ma quello malvagio Inutile però E questo cos'è Radice Dai spero che ci esca qualcosa Dai speriamo Oh no Quanto siamo Che numero è questo di Sam Junior Sempre SR Oh no Mi sa che non ci riesce niente In questo giro Mamma mia Una summon orribile Proprio peggio non poteva andare Mamma mia Cioè praticamente È stata orribile Come summon Facevo prima a non farla proprio Vabbè c'è questa da 30 Ma non la faccio Non è che mi interessi Comunque abbiamo trovato proprio Personaggi inutili Proprio nessuno Comunque ragazzi Il mio team è rimasto questo Nello scorso video Avevo trovato Kauliflat Troverete il video In descrizione Sotto in descrizione Il link Non l'ho voluta mettere Perché ho saputo Che Bardak Quando diventa Dokkan Awoken Con la leader skill Mette tipo Ki più 3 E ne vale parecchio La pena Quindi Ho deciso Di lasciare lui E cercherò di mandarlo A Dokkan Awoken Comunque ragazzi Mettetevi un bel pollice in su Se vi vi è piaciuto E iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Attivate la capilla delle notifiche Così vi arrivano notifiche Vediamo che faccio un nuovo video Se avete fatto questo summon Ditevi anche cosa avete trovato Iscrivetevi alla mia pagina Instagram e Facebook Per le novità Che metto sempre E ci vediamo alla prossima Ciao Ciao